Le scuole orlandine sono pronte a riaprire. Nelle scorse settimane infatti il comune di Capodorlando ha lavorato senza sosta per mettere in sicurezza i plessi degli istituti comprensivi 1 e 2 e adeguarli alle misure anti-covid. L'inizio dell'anno scolastico per i plessi impegnati dal referendum del 20 e 21 settembre è previsto per giovedì 24 e dentro quella data tutti gli edifici, eccetto quello di Furriolo, saranno pronti, come assicura l'assessore al ramo Andrea Paterniti. Abbiamo fatto dei lavori in tutti e due gli istituti comprensivi praticamente toccando tutti i plessi interessati già l'anno scorso e ricavando alcuni spazi in più sia a Santa Lucia, sia in via Piave, sia in via Roma, praticamente garantendo il rispetto della distanza. Servirà più spazio, abbiamo differenziato insieme ai dirigenti scolastici e ai responsabili della sicurezza anche i percorsi di accesso, quindi differenziando gli ingressi e le uscite riusciamo anche a limitare il disagio sugli orari di ingresso e di uscita e stiamo già approntando anche il servizio dei pullman cercando di contenere, come prevede la normativa, il tempo di trasporto sotto i 15 minuti. Ovviamente per entrare a regime servirà un po' più di tempo perché molti spostamenti delle varie sezioni sono stati importanti e quindi dobbiamo ricalcolare e riparametrare i percorsi sempre per la sicurezza dei ragazzi. Per quanto riguarda la situazione Covid si sta cercando di approntare tutti i protocolli di sicurezza, abbiamo inserito con i dirigenti tutte le aule per l'isolamento in ogni plesso, ovviamente speriamo che non ci siano di queste casistiche ma in ogni caso verrà seguito il protocollo, anche a livello di sanificazione partiremo con tutte le scuole sanificate e poi con il protocollo che applicheranno direttamente gli istituti comprensivi di sanificazione e lavaggio praticamente giornaliero.